Si sparava tutti i giorni in tutta Italia, soprattutto a Roma. Troveranno Aldo Moro in via Caltani. C'era molta paura in giro. C'era la paura di essere ammazzato. Mi sentivo questi colpi secchi. Se io passavo pochi secondi dopo, mi sarei trovato proprio nel mezzo della sparatoria. Sembrava quasi un film, purtroppo non era. Il sequestro Moro, gli altri testimoni. Questa sera alle 21, su History. Grazie.